Omenia si cambia ha scelto. Alla competizione elettorale di primavera la lista civica che in consiglio comunale è rappresentata da Mauro Empolesi e Lucia Camera ha scelto Daniele Berio, imprenditore, socio della Canottieri, da sempre attivo nel sociale e nel mondo dello sport. Berio ha accettato la sfida con entusiasmo, nei prossimi giorni la presentazione ufficiale. A sostenerlo ci sarà il gruppo di Omenia si cambia con Augusto Quaretta che proprio oggi in un documento ha smentito le voci di una sua discesa in campo alle elezioni omenesi. Rimarrò sindaco di Quarnasopra, le mie eventuali dimissioni avrebbero costretto al commissariamento forzato il comune che amministro con passione e impegno insieme ai miei assessori e consiglieri e non me la sono sentita per diverse ragioni. A Quarnasopra sono iniziati e sono previsti importanti lavori e investimenti destinati a dare una nuova immagine e prospettiva di vita al paese di cui vado e vorrei continuare ad essere orgoglioso. Inoltre la fiducia che mi è stata data a suo tempo dai Quarnesi merita rispetto e senso di responsabilità. Le convenienze e ambizioni personali vengono dopo, spiega Quaretta. Il sindaco non nasconde l'empatia verso il progetto. La sfida omenese mi stuzzicava, una sfida non contro qualcuno ma contro un certo modo di fare, intendere e vivere la politica e quindi di amministrare la comunità fatta di compromessi, manovre di segreteria e rivendicazioni personali o partitiche. Per quanto potrò, e sia pur con un ruolo diverso, lavorerò fianco a fianco del progetto della lista civica Omenia si cambia e lo farò con grinta, entusiasmo e convinzione, perché sono convinto che sia indispensabile dare un segnale diverso, conclude Quaretta.